Ah, questo mi sembra piacevole. Ehi, chi è che ha rovistato nell'immodizio? Oh, 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 io non voglio problemi. Ehi, bello, sei nel posto sbagliato se non vuoi problemi. Qui hai una montagna di problemi. Una civetta verrà qua giù, ti solleverà e ti strapperà un occhio. Beh, almeno puoi ripulire quando hai finito. Sai com'è? Comincia a puzzare un po'. Oh, a te non piace la puzza, eh? Beh, non usa questa. Ah! Sì, voglio vedere che fai ora, nasino delicato. Oh, qualunque a puzzare, cos'è questa puzzola? È come se uno pneumatico mi si fosse incendiato sotto al naso. Brian, perché gli stai facendo questo? Oh, 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 oh. Bastardo! Non ci vedo, sono cieco. Ah, che cos'è questa puzza? Mio Dio, Peter, una puzza l'ha spruzzato Brian. No, non contro il muro, in questo modo spaventerei gli scarafaggi. Oh, così non va bene, erano il 70% dell'ossatura della casa. Peter, dimmi che l'assicurazione copre questi danni. Mi dispiace, i danni provocati dai cani non sono coperti.